Qualcuno ci gioca all'Orcana? Conviene iniziare ad esplorarne le meccaniche e nell'evenienza si voglia dare spunto ad un percorso nel GCC? E in che stato si trova questo aspetto nel TCG targato Disney in Italia? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. L'Orcana, 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 l'Orcana. Gioco particolare che da quando ha fatto la sua comparsa ha visto moltissimi appassionati avvicinarsi a questo titolo generando un volume di vendite da record mai visto per una new entry. Con un regolamento davvero basilare inoltre, tanto è che lo chiamo il Keyforge for Dummies, le dinamiche di questo gioco di carte hanno messo a disposizione di ogni neofita o veterano un prodotto intuitivo e di facile comprensione, adatto letteralmente a tutti. Ma c'è un ma. Ogni TCG ha un doppio volto. Collezionismo e giocato. E in questo il primo aspetto ha superato di molto il numero del secondo, relegando almeno per il momento Topolino e compagnia nei vari album esposti sugli scaffali. In questo video quindi esploreremo le dinamiche sia di uno che dell'altro aspetto, comprendendo appieno quali sono i principi che hanno mosso la massa a collezionare, piuttosto che giocare, il prodotto targato Disney. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme se converrà a giocare all'Orkana nel 2024. Andiamo a dargli un'occhiata. Collezione o gioco? L'Orkana, come già detto, ha un doppio volto. Partiamo quindi dal primo, il più conosciuto, ovvero il collezionismo. Per quanto vasto e imprevedibile questo campo possa essere, qui non vige nessuna regola. Ogni collezionista fa quel che vuole. C'è chi preferisce solo personaggi di un film, magari un singolo protagonista o antagonista, solo carte di un inchiostro, chi vuole la collezione completa dalla numero 1 alla 204, chi opta per il master set e così via. E tutti, ripeto, tutti hanno un senso. D'altronde non c'è niente di scritto in questo settore. Ognuno fa letteralmente quel che vuole, vivendo in una terra dove l'unica legge che conta è la propria. E se ciò rende felice il collezionista, a posto. Mentre il giocato... Eh, segui delle regole ben specifiche. Tre, per la precisione. Organizzazione, reperibilità e costo. Per l'organizzazione, l'Orkana non ha un vero e proprio evento local supportato dalla Ravensburger. Non esiste al momento. E ciò non invoglia la massa nel cimentarsi in sfide che potrebbero far accumulare punti per accedere ad eventi di entità superiore come nazionali, europei e mondiali. Esistono unicamente delle stelline incollate su un poster e basta. Alla fine del ciclo di tornei si assegna un premio ai migliori classificati e via verso la seconda stagione. Quindi, non proprio un piatto ricco micifico. Tutt'altro. Anzi, parlando per esperienza, credo che sia a tutti gli effetti il pool price più piccolo di cui abbia memoria. Per la reperibilità, anche qui non c'è molto da parlare. Il primo capitolo è terminato ovunque quasi a ridosso del day one e dopo la data di pubblicazione in mercato c'è stata una lotta fratricida per accaparrarsi i vari prodotti a buon mercato. E dove c'è scarsità? Si sa. Si annida il collezionismo e quindi sotto questo aspetto la poca disponibilità non ha giovato molto al giocato. Ma non è così solo per l'Orkana. Lo è stato anche per One Piece con Romance Down. Ma fortunatamente, proprio come il TCG della Bandai, anche per quello targato Disney, è stata annunciata una riedizione, attualmente disponibile, con vari cambi di packaging e le errata integrate. E quindi, già da ora, saranno presenti più elementi in circolazione che andranno a beneficio di altri due aspetti che per chi raccoglie lore risulteranno fondamentali. La reperibilità maggiore dei personaggi utili a concludere la lista, e fin qui ci siamo, e il costo dei singoli. Infatti questa terza regola di solito allontana dal volersi montare un deck, ed avvicina invece chi vuole solo un gruppo di carte da voler osservare. Normale che, con le varie ristampe, anche i prezzi caleranno e, in automatico, si abbasseranno le barriere di accesso a tutti coloro che vorranno testare con mano le dinamiche di gioco, potendo costruire il deck dei propri desideri senza spendere un capitale. Ma quindi, Arconte, collezionismo o gioco? Entrambi. L'Orkana resta al momento uno dei prodotti che reputo perfetto per tutti coloro che vogliono muovere i primi passi nel mondo dei TCG, perché è dannatamente semplice da giocare, e allo stesso tempo, grazie alle ristampe, sarà molto più facile recuperare carte a buon mercato per completare la propria raccolta. Ok, ok, e se volessi iniziare a giocare, cosa devo fare? La prima mossa è acquistare gli starter deck, vi lascerò i link in descrizione. Perché? Per avere un mazzo pronto per essere giocato con un amico o un familiare, così da iniziare a comprendere le regole di base, e allo stesso tempo possedere una validissima base di partenza per dare il via alla raccolta del proprio set di riferimento. In più, non sottovalutate l'aspetto competitivo di l'Orkana, dato che nonostante sia assente una struttura ufficiale, il torneo organizzato dai signori di Fantasia Store, Goat, Capre e Principesse, ha registrato un'affluenza di 160 e più persone su un numero totale di 200. Niente male per essere un TCG prettamente volto al collezionismo. Concludendo, non ci resta altro da fare che attendere l'ufficializzazione dei local da parte della casa madre e l'inserimento in mercato di nuove ristampe, così da dare a molti più giocatori la possibilità di testare le meccaniche semplici ed intuitive che questo GCC avrà da offrire loro. E voi al momento state prendendo l'Orkana come collezionisti o giocatori? E come vedete in futuro le sorti di quest'ultimo aspetto? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.